Welcome back, welcome back, siamo tornati qui su Est Radio per un altro fantastico Est & Guest in compagnia di due ospiti fantastici, ovviamente al mio fianco c'è Nina, ma guest first facciamo presentare i nostri due ospiti Mirko e Riccardo, benvenuti. Grazie, grazie a voi soprattutto per questo invito. Io sono Mirko Leonelli, lavoro in Biperbanca da 22 anni e sono il coordinatore di un progetto nazionale rivolto a tutti i dipartimenti e a tutte le università, un progetto che si chiama Be Education, idee che valgono ed è un progetto di formazione ed educazione finanziaria e alla sostenibilità. Tu Riccardo invece chi sei? Io sono Riccardo Raimondi e lavoro in Biperbanca da 4 anni, ora lavoro in sostenibilità, mi occupo sempre di comunicazione, mi occupo di progetti legati alla sostenibilità e di altre progettualità appunto di educazione finanziaria. Mi leggo a queste progettualità soprattutto dal punto di vista della comunicazione, quindi è un ambito che mi appassiona tantissimo, quindi insomma siamo qua a parlare di un progettone di educazione finanziaria. Ecco, hanno fatto lo spoiler che volevo, che io e Nina avremmo colto molto volentieri, infatti giustamente siamo qui con Biperbanca per parlare di Be Education, un progetto dedicato a tutti i giovani per la banca che infatti cerca di investire sul nostro futuro, mi viene da dire, dato che ci sentiamo giovani, tu lo sei sicuramente più di me Nina, e che quindi mette a disposizione una borsa di studio e un percorso di formazione finanziaria per giovani che hanno appunto idee che valgono. È sicuramente un progetto molto interessante per noi giovani perché ci dà la possibilità di imparare come funziona questo mondo appunto della finanza, non solo in maniera frontale, quindi non è solo una lezione in cui ti vengono in questo orbi informazioni, ma hai anche la possibilità di imparare nel pratico a capire come funziona questo mondo, come gestire i soldi e non solo, ed è un'esperienza pressoché unica perché è un campo poco trattato soprattutto nella nostra generazione. Noi abbiamo voluto fare un progetto che fosse trasversale, il carattere innovativo è proprio questo, noi creeremo dei gruppi di lavoro da tre, massimo sette studenti, all'interno di questi gruppi di lavoro noi troveremo ragazzi che non sono solamente di economia, quindi in materia economico-scientifiche, ma vorremmo creare ragazzi misti, uno di economia, uno di giurisprudenza, uno di scienze politiche, in modo tale che possano contaminarsi tra di loro e il nostro obiettivo è fare dell'educazione finanziaria, della sostenibilità, delle competenze di cittadinanza trasversali, quindi non prerogativa solo degli studenti di economia, ma che siano interessanti per tutti, anche perché prima o poi tutti avremo chi più chi meno ovviamente dei soldi, tutti dovremo eventualmente anche avere a che fare con la pianificazione finanziaria, che è uno dei dieci temi che i ragazzi potranno scegliere per sviluppare, ma cosa dovranno fare questi ragazzi effettivamente, non l'abbiamo ancora detto, questi ragazzi in gruppi di lavoro dovranno sostanzialmente creare un corso di educazione finanziaria o alla sostenibilità scegliendo uno dei dieci temi che sono stati votati dai ragazzi stessi, lo creano molto probabilmente tramite classico PowerPoint, a settembre ce lo danno sostanzialmente, lo presentano, c'è l'output finale e a dicembre 2023 verranno premiati i tre output migliori e nel 2024 li farà parte integrante del suo progetto di formazione presso altre scuole piuttosto che adulti, piuttosto che ragazzi. Quindi c'è anche la definizione proprio del target di destinazione di ciascuna proposta perciò volendo io e Nina, o meglio io non più perché ho concluso la mia carriera universitaria ma Nina accompagnata da un fedele gruppo di altri studenti potrebbero provare a ragionare una proposta per giovanissimi o per più anziani e tutto quello che ci sta in mezzo, corretto? Esatto. E qual è invece il range d'età per cui ci si può iscrivere a questo progetto? Tu devi essere un ragazzo universitario della triennale o della magistrale. Ad oggi abbiamo praticamente quasi 1300 ragazzi iscritti di più di 35 Atenei quindi la rilevanza del progetto la si vede anche da questi numeri sinceramente. E mi interesserebbe invece anche molto sapere quanti sono gli iscritti a questo progetto che provengono da percorsi di studi inerenti a economia e finanza e chi invece da studi differenti? Ma sai che io pensavo che una grossa percentuale arrivasse solo da economia. In realtà ti garantisco che ne abbiamo veramente, ora quelli di economia sono una leggera maggioranza tuttavia ne abbiamo da tutti i dipartimenti, sì veramente. Abbiamo ragazzi di lettere piuttosto che appunto di giurisprudenza, lo dicevo prima. Sono ben distribuiti sia a livello geografico che a livello di facoltà. Anche perché poi quante volte hai l'opportunità di fare esperienza di questo tipo se poi decidi nella vita di fare lavori non inerenti appunto alla finanza perché comunque è un mondo e sono delle esperienze molto importanti per la vita di ognuno di noi. Noi, e lo dico a voi ma soprattutto lo dico da chi ci ascolta da casa, noi dobbiamo partire da un dato. L'Italia in un'analisi del 2015 era al sessantatresimo posto a livello mondiale di alfabetizzazione finanziaria, quindi educazione finanziaria, competenze nell'ambito finanziario. Sì che poi facendo veloce matematica siamo nel G8 a livello italiano, essere sessantatresimi a livello globale non è proprio un risultato positivo direi. Solo il 37% degli adulti è in grado di prendere delle decisioni in maniera consapevole, parlo di decisioni di investimento e quant'altro. E l'altra faccia della medaglia è che abbiamo avuto quasi 2 mila miliardi di euro sui correnti. Voi mi direte, parlo degli italiani, voi mi direte ma che cifra è? È una cifra enorme. Esorbitante. Allora, se non c'è educazione finanziaria la gente è a paura e se lasci i soldi sul conto corrente c'è un piccolo criceto che in realtà è una pantegana che sostanzialmente giorno dopo giorno te la viene a mangiare che si chiama inflazione. Negli ultimi due anni l'inflazione, anche ad oggi, in Italia è oltre l'11%. Quando andate a fare la spesa ve ne siete resi conto. L'inflazione mangia i soldi lasciati fermi, come dice Brumotti, con le quattro frecce, sui conti correnti, capisci? A questa pantegana con Be Education gli mettiamo una bella trappola per topo e siamo a posto che da lì in poi non tornerà a mangiucchiarci. Facciamo capire che, esatto, se ti assi la mattina che ce n'è sempre meno è perché è arrivato a pantegana durante la notte e si è mangiato tutto. Esatto. Io da studentessa non mi è mai stata insegnata da nessuno questa materia, niente. Non sapevo niente finché non mi sono informata io che poi anche lì l'informazione può arrivare anche può arrivarti anche male, non so come dire, perché se non hai delle persone che te li insegnano in maniera diretta o comunque che sono informati, guardando da internet queste cose qua, rischi anche che ti informi. Io ho un figlio di 15 anni. Da parte mia c'è il desiderio di mettermi dall'altra parte, ok? Cercare di capire voi giovani. Lui mi ha risposto in maniera un po' simpatica. Ma secondo me la finanza viene vista a volte un po' come da qualcuno, come la matematica. Sai, la matematica è come le tasse, non piace più di tanto, cioè non a tutti, ma a molti non piace, non entusiasma. Allora quando vai a parlare tu devi fargli capire ai ragazzi che è un pezzo di vita quello che gli vai a dire. Sì, la finanza è un pezzo di vita. Warren Buffett, che conosceranno tutti perché è il gu della finanza. Bracolo di Oma, certo. Warren Buffett è sicuramente il nord per chiunque studi e parli di finanza. Esatto. Dicevo una cosa, se si pensi forte, la somma spesa in un mese, cos'è? È data dalla differenza fra lo stipendio, meno il risparmio, meno l'investimento. Quello che rimane lo puoi spendere. Quindi non è come ragioniamo noi, l'ingresso, quindi il... Meno i costi. Esatto, non è lo stipendio meno la spesa uguale risparmio. Quello che posso spendere. Esatto, no. Buffett diceva così, ha ragione o ha torto, non lo so, la storia però dice che... Che poi a lui è andata bene comunque, quindi io nel dubbio cercare di seguire i suoi insegnamenti. E comunque lui già è riuscito. Assolutamente. Il suo intervento diciamo che è molto molto completo, soprattutto si avvicina tanto al mondo dei giovani che si ritrovano adesso con nuovi strumenti di pagamento. Una volta si andava solo con la carta, si andava soltanto con la banconota. Adesso si trovano nuovi strumenti di investimento, nuovi strumenti di pagamento. Si trovano con un mondo totalmente nuovo, digitale. Volendo tornare anche sull'argomento B-Education, un altro grande valore, oltre al fatto di sviluppare anche competenze trasversali, oltre che competenze derivanti un po' dal proprio percorso di studi, è sicuramente il poter portare sul tavolo dei lavori, anche con gli altri ragazzi, il proprio territorio, le proprie origini, le proprie tradizioni. Poter incrociare anche dal punto di vista territoriale realtà diverse è un valore clamoroso per questo progetto. È un valore clamoroso. Quello che mi colpisce molto e che mi ha colpito sia mentre mi informavo con i vostri materiali, sia poi ascoltando i vostri intro, è che mettete insieme davvero diverse cose con questo progetto. Cioè sicuramente la componente dello studio in modalità e-learning, qualcosa che per esempio Nina ha molta familiarità, visto che ha affrontato la fase finale del liceo negli anni della pandemia, e che è qualcosa che la pandemia ha un po' sdoganato, sia per i giovani che si sono abituati a seguire i corsi in questa modalità, sia per chi proseguendo il proprio percorso universitario si è dovuto adattare a questa cosa. E quindi sfruttando la tecnologia al servizio di un obiettivo che però poi va a riscaricare a terra un po' tutti i vostri obiettivi che sono quelli di far crescere le persone, in questo caso i giovani che partecipano al vostro progetto, dando loro un work environment che è qualcosa di davvero molto difficile da ricreare in diverse situazioni. In effetti, se ci penso, credo che in Italia sia quello che ci manca di più. Infatti, se penso all'Italia, penso a una nazione preparatissima dal punto di vista universitario, nel formare a livello nozionistico i nostri giovani. Forse non siamo secondi a nessuno quando si parla di quanto sono preparati i nostri professori o le nostre professoresse. Allo stesso tempo però andare a creare quella sorta di ambiente laborativo che poi i giovani vanno a ritrovare nel momento in cui iniziano la propria carriera professionale è un qualcosa che a mio parere manca molto. E vedere tutto questo sviluppato all'interno di un unico progetto fa molto effetto e è molto positivo, mi colpisce molto. Hai ragione, infatti, tra le altre cose, noi oltre a dare competenze sulle classiche hard skills, diamo anche tre webinar, tre workshop, scusami, sulle soft skills o power skills che adesso vengono definite tali. Quindi problem setting e solving e infine presentazioni efficaci qualora il ragazzo alla fine deve presentare un breve pitch o comunque tre o quattro minuti l'elaborato e l'output fatto. Hai colto perfettamente nel segno di questa diversità che poi è anche, io penso, che sia una richiesta. Ci sono, fra i dieci temi che i ragazzi potranno selezionare, ce ne sono alcuni sul discorso del rischio climatico ambientale piuttosto che della parità di genere, perché le idee che valgono sono anche e soprattutto queste. Perché poi ai nostri occhi di chi guarda fuori la finanza sembra che tratti solo e solo esclusivamente soldi. Invece poi sapere queste cose e rendersi conto che poi è un mondo che tratta anche questioni che noi giovani tocchiamo molto e di cui ci sentiamo molto sensibilizzati, soprattutto in questo periodo storico come la sostenibilità o la parità di genere, è molto interessante perché riesce a dare una forma molto diversa rispetto a ciò che da fuori emerge. Noi, banca, non creiamo più valore solo per gli azionisti, ora si crea valore sì per gli azionisti ma anche per tutti gli stakeholders, stakeholders, scusate, quindi tutti i portatori di interesse all'interno dell'azienda. È un'operazione win-win, ci guadagni tu, ci guadagno io. È l'obiettivo al quale tutti dovrebbero giungere. Diciamo non resta più solo il tema della speculazione, cioè il fondo su cui investi non è più solo speculativo ma vuoi cercare di portare dei cambiamenti attraverso le aziende su cui investi, che siano cambiamenti in ambito ambientale o in ambito per dire sociale. Vai a investire anche su aziende con i fondi etici e ovviamente che hanno un certo controllo certificato anche delle proprie attività, quindi sono aziende che lavorano correttamente, hanno una governance che lavora in modo corretto, etico. Si cerca di investire su dei mondi un po' più sicuri, come titoli, ma anche su un mondo ovviamente che crea impatto positivo, una finanza che crea valore appunto condiviso. Mi sembra un obiettivo e che state anche portando avanti non solo con le parole ma anche con i fatti, con convinzione. E credo che si leghi molto bene all'audience che ovviamente cercate di raggiungere con questo progetto, quello dei giovani, che da generazione Z a adesso insomma arriverà anche l'alpha, però focalizzandoci sulla generazione Z, io ho sempre un po' ribattezzato generazione zero scuse, perché non se le prendono più le belle favolette dei brand, delle istituzioni che li raccontano che quelli che in realtà sono obiettivi che vanno a beneficiare questi brand e queste istituzioni siano per un bene comune. Ormai i giovani, penso soprattutto alla generazione Z e a chi arriva e arriverà dopo, vogliono avere delle certezze, vogliono essere sicuri che un brand che comprano, di cui beneficiano dei servizi, che sia l'abito che si mettono per andare all'università o al lavoro, o il caffè che bevono in pausa pranzo, o il prodotto che comprano al supermercato, sia un brand che agisce nell'ottica di creare un valore condiviso, come dicevi tu. Sì, c'è un tema particolare, il tema del greenwashing o social washing. Volevo che ci arrivassi tu. Marketing, la pubblicità infarcisce, diciamo, le menti anche giovanili, oltre che ovviamente le menti adulte, che però comunque sono meno sensibili, sono meno sensibili ai temi diciamo etici. Infarciscono le menti giovanili che sono pronte a investire su un qualcosa, a comprare green, tra virgolette, abbiamo sempre green, diamo sempre questo colore verde alla sostenibilità, portano spesso a compiere, diciamo, acquisti o compiere anche investimenti su aziende che in realtà non sono sostenibili. Queste aziende traggono profitto, traggono di cose, ovviamente, che non possono dimostrare. Certo, sono molto alte e inspirational, no? E non c'è un mondo sbagliato, c'è un mondo un pochino da risistemare, anche perché con gli ultimi due o tre anni, con una pandemia in mezzo, diciamo, la digitalizzazione ha cominciato a spingere tantissimo, la comunicazione ha cominciato a spingere tantissimo attraverso i nuovi mezzi digitali. Quindi adesso si fa un pochino più fatica anche magari a frenare appunto questa ondata di novità, ma anche di fake news, purtroppo. Il problema è esatto questo, cioè che poi uno ci casca proprio... Ci si casca male. Ci casca proprio male. Allora, non dare soldi a principi nigeriani. Questa l'abbiamo superata una decina di anni fa, però tu magari non ti ricordi ancora. No, 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 non lo farò, non lo farò. Se c'è, ti dicono, dammi la carta perché riscuoti l'eredità di un principi nigeriano, è un no a quello, ok? Ma mia mamma me l'ha insegnato, mi ha già detto di non farlo. Però sì, hai ragione, c'è proprio questo tema della forse troppa informazione che poi diventa difficile da decifrare, no? Perché se io sento dieci nozioni su criptovalute, ma che può essere anche su come devo andare a portare fuori il cane la mattina, poi qual è il modo vero? Dov'è che trovo la vera informazione corroborata e certificata? È il problema proprio delle nuove generazioni e della nostra generazione perché siamo bombati di informazioni, ma non avendo le basi per poterle gestire, per leggere con gli occhi giusti, facciamo molta fatica a distinguere il vero dal falso e a crearci un'idea propria. Una pagina magari nota, molto nota, anche su un social network che lancia una notizia, tutte le altre paginette che ruotano attorno a questa pagina cominciano a rimbalzare ulteriormente la notizia. Quindi diventa notizia vera, diventa notizia vera per chi legge, perché dicono ma lo stanno dicendo tutti, è notizia vera. Lì l'esperienza aiuta, c'è poco da fare. Ci serve esperienza. Come andare in bicletta, all'inizio cadi, poi dopo inizi a capire quali sono le fonti autorevoli oppure no. Anche nel mondo degli influencer, della finanza, piuttosto che delle app di trading, social trading e quant'altro. Anche lì, ripeto, il fai da te è pericoloso, ok? Quando parliamo di investimenti il fai da te è pericoloso. Ecco perché ci vuole quell'educazione, quella competenza in ambito finanziario per riuscire almeno a capire qual è, può essere il tuo consulente, che sia consulente finanziario piuttosto che private banker, qual è il consulente giusto, ecco, al quale tra virgolette appoggiarsi perché è un professionista, è un esperto e ti aiuta a pianificare tra virgolette il futuro per raggiungere i tuoi sogni. Abbiamo sempre avuto libri, testi su cui studiare, ma sono studi, filosofie che si sono sviluppate nel corso di 50, 100 anni, 200 anni, anche proprio secoli, millenni e abbiamo sempre avuto un filone abbastanza lineare, però con testi e fonti studiate, ristudiate, teorie verificate. Adesso ci siamo entrati in un mondo che è veramente caotico, cioè il mondo digitale, il mondo digitale porta a perdere diciamo, perdere certezze, perdere certezze e non te ne accorgi, ti sei già dentro ma non ti accorgi del cambiamento oppure appunto di fake news o di notizie che purtroppo ti deviano, ti deviano letteralmente. No, ecco, noi appunto ricollegandoci a questo concetto di idee che valgono e facendo anche grazie alla testimonianza di Nina un excursus su quella che è la situazione della cultura economica in Italia, abbiamo provato a conciliare quello che è il vostro obiettivo nell'ambito di questo meraviglioso progetto con anche la necessità di rendere un po' più digeribili di tutte queste informazioni, quindi abbiamo preparato un simpatico gioco dal nome appunto Idee che valgono e sia nell'ambito finanziario che non, volevamo sapere la vostra su queste diverse idee che andremo a delencarvi. Alcune ci direte che valgono, altre ci direte semplicemente passiamo così non siamo troppo cattivi. Gli NFT, idea che vale, idea che non vale? Di base ritengo che valga, di base, ma è un pari molto personale perché è un mondo totalmente nuovo. A te Mirko, le app per trading? Hanno consentito sicuramente di ridurre i costi, di velocizzare, di poter agire in ogni luogo in ogni tempo, però anche lì torniamo al discorso di prima, quindi siamo sicuri di avere le competenze per sfruttare questi strumenti oppure sono semplicemente i classici soldi dati al casino come è capitato con altre criptovalute. Finché non c'è una regolamentazione come diceva Riccardo prima sotto, in maniera forte, io rimango sempre molto perplesso. Certo, uno può fare un guadagno facile, ma lo fa anche andare alla tabaccheria e... Il numero sulla roulette una volta lo vecchi. Una volta lo vecchi, sì. Il problema è che se si cade poi in altre forme di, chiamiamolo gioco d'azzardo, patologico e noi abbiamo i numeri e non sono carini, la situazione è complessa. La finanza su TikTok? Perché no? Perché no? Vado io. Ora, sempre il salto discorso, se fatta bene da persone competenti, perché no? La carne vegetale. Chi vuole rispondere? Io sono bolognese, con la carne vegetale. Potrebbe essere un fine molto etico provare a mangiare carne vegetale o adesso ho sentito parlare addirittura di carne creata chimicamente, sintetica, la carne sintetica, la carne sintetica. Corsa allo spazio, questi miliardari che sembra che mentre voi siete qua, che giustamente parlate di un mondo che volete preservare per noi giovani, sembra che abbiano già... Stiamo andando oltre. Stiamo andando oltre. Cioè qua finisce tutto, io tra 30 anni sono su Marte, mi sembra un po' questo. Il concetto è questo. So che è una cosa a medio-lungo periodo, quindi in teoria all'investitore X che decide di... non faccio nomi, comunque decide di puntare gran parte del proprio patrimonio per investimenti sullo spazio e io ritengo che sia sempre una speculazione nel breve, perché spesso vai ad alzare diciamo il prezzo, il valore della tua azione, comunque della tua proprietà, del tuo investimento, lo vai ad alzare con la notizia, con il rumor della novità. Può portare sicuramente a lungo periodo, sicuramente un valore positivo. Continuiamo sempre a lanciarci oltre in questo spazio, però pensiamo alla nostra terra. Vogliamo addentrarci un po' all'interno dei temi selezionati da voi e dagli studenti per la seconda fase del progetto Be Education, quella che prevederà un workshop dove appunto in gruppi di lavoro gli studenti proporranno una loro idea, sperando che appunto sia un'idea che vale e potranno andare ad assicurarsi, in caso che questa idea valga veramente, la borsa di studio tanto ambita di 10.000 euro nella proclamazione nella seconda parte dell'anno. Non ho detto che questi gruppi di lavoro verranno seguiti passo dopo passo da un tutor, quindi sarà un tutor ogni cinque gruppi di lavoro e quindi non sarete tra virgolette abbandonati a voi stessi, perché vi daremo una formazione nella fase 1 dell'e-learning, avrete anche tra le altre cose un forum dedicato. Quindi ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene. Ricordatevi sempre una cosa, che l'educazione, la cultura sono forse l'unica ricchezza che nessuno vi porterà mai via. Provate a pensarci. Quindi ci sono tutti gli interessi per approfondirla. Ve lo dice uno che legge almeno 11-12 ore al giorno, da un po' di anni. Io forse sono un eccesso. Ci tenevo a dire perché non solo questo progetto ha questo bizzioso obiettivo, ma anche perché è una regola di vita, che è fondamentale sostanzialmente. Quando Steve Jobs presentò il primo iPhone, si agganciò a quello che stavo dicendo prima, a essere l'effetto ancoraggio. Cioè quell'effetto che di fronte a un bene, l'iPhone, l'iPad, non l'iPhone, l'iPad, di fronte a un bene di cui non sai il valore, tu ti aggrappi all'unico valore che hai in quel momento, che era quello del 999. Certo, non avendo altri punti di riferimento. Non avendo altri punti di riferimento. Quindi non hai pensato alla cifra di quanto costasse effettivamente, ma più al fatto che avresti pagare 999 euro, qui non potevi pagare di meno, quindi hai detto affarone. Affarone. Se lui ti diceva, mi dispiace tanto, ma il prezzo dell'iPhone non sarà più 350 dollari, ma sarà 499. Tu cosa dissi? Lo compravi forse, perché era uscito, però pensavi di pagarlo un pochettino caro, ma il prezzo era sempre quello, 499. Un altro bias è quello dell'eccesso di, come posso dire, di sentirsi troppo sicuri di sé. E un altro fa riferimento al fatto che, facciamo un esempio banale, ieri è caduto un aereo, ci sono stati tantissimi morti. I media ovviamente danno un gran risalto alla cosa. Tu fai fatica a prendere un aereo, perché hai avuto un effetto dettato da tutte queste informazioni che ti sono arrivate il giorno prima, anche se traumati. Perché magari quel giorno erano partiti altri milioni di aereo e andati bene, ma quella notizia lì. Sappiamo tutti, grazie al cielo, che andare in aereo la probabilità è più bassa, ad esempio, che andare in macchina. Questi sono i bias cognitivi. La maggior ragione è che si verifichi due volte in due giorni di fila, cioè probabilmente da un punto di vista statistico è il momento migliore per prendere un aereo, quello appena dopo. Esatto. Questo per dirvi che quando si investono dei soldi è fondamentale anche tenere in considerazione l'aspetto psicologico delle persone, perché le persone tendono a comprare quando lo fanno tutti e i prezzi sono sui massimi. Si chiama effetto gregge e cosa ti dice? Che in realtà tu dovresti fare l'inverso. Quando crolle tutto sembra andare... Questa forse la so, buy the dip. Buy the dip. Questo è un generico buy the dip. Un generico buy the dip. Esatto. Quindi qualcuno dice quando, detto in modo un po' macabro, quando scorre il sangue è il momento di entrare in borsa. Poi certo ci vogliono... I tempi che ci vogliono. I tempi che ci vogliono, ci vogliono anche del gran coraggio in quel momento. Direi, ok, vado contro tutti, mi butto. Esatto. Però se ci fai caso vai contro tutti perché tutti hanno già venduto, quindi oramai rimangono solo qualche compratore. Andare contro il corrente, sostanzialmente. La storia, perlomeno, ha dimostrato questo. E lì bisogna essere psicologicamente forti. Devi saperlo fare. Devi saperlo fare. Ma, ti ripeto, devi sapere anche essere una persona controllata psicologicamente, avere nozioni di finanza comportamentale e incrociare. Questo è il tema della finanza comportamentale. Volevo poi con Riccardo toccare il tema dei pagamenti digitali, visto che le crypto le abbiamo già sfiorate e ne abbiamo già parlato in maniera un po' laterale durante questa prima parte di chiacchierata. Quanto si tratta, secondo te, di un problema strutturale e quanto di un problema culturale? Mi spiego. L'Italia, come paese che è indietro sui pagamenti digitali, lo è per un'assenza di predisposizione culturale del proprio popolo, quindi una mancanza di fiducia verso gli strumenti, o proprio per un essere indietro dal punto di vista delle strutture, delle tecnologie che supportano l'infrastruttura dei pagamenti digitali nel nostro paese? Allora, più che di temi parliamo proprio di problemi strutturali e culturali. Sicuramente c'è stata una forte spinta negli ultimi due o tre anni al digitale, al pagamento in cashless, grazie soprattutto agli incentivi che sono arrivati dallo Stato. Addirittura sembra che sia aumentato del 30% il pagamento tramite appunto carte di credito, bancomat, tramite mezzi digitali. In Italia siamo ancora tanto legati alla banconota, le generazioni un po' più vecchiote sono ancora tanto legate e la popolazione italiana è molto vecchia, sono comunque generazioni che stanno affrontando il digitale da pochi anni, i temi digitali da 15-20 anni. Internet è esploso a inizi anni 2000, a fine anni 90 l'avevano in pochi, in pochi avevano il privilegio di poter utilizzare internet e la navigazione web. Le nuove generazioni invece sono nate nel digitale. Se tu vai a chiedere dei ragazzi di andare a pagare al ristorante delle cose con tanti, è difficile che vadano a proporsi di pagare delle cose con la banconota. Anche il gesto di prelevare, no? No, adesso tendono a far pagare, o ciascuno paga la propria quota ovviamente col digitale, con il pagamento cashless, oppure paga uno per tutti, poi si fa il giro conto con il paypal, con Satisfate. Esatto, ci sono quei mezzi di pagamento molto user friendly. E questo può essere anche un limite, può anche essere un limite perché non avere la banconota in mano non hai mai accortezza di quanto hai realmente nel tuo portafoglio immaginario, digitale. Non senti il peso della spesa. Esatto, non senti il peso della spesa. Quindi spesso vai a fare una serie di acquisti online perché vedi una serie di sconti ovviamente che ti vengono buttati lì e dici, ah, questa cosa non mi servirebbe. Però è scontata, posso pagarle in un attimo con il paypal, non devo neanche andare a prelevare. Non sto vedendo la transazione, i soldi che lascio. Vado a pagare con la carta di credito della banca. Al di là del sistema di pagamento, comunque è proprio una macro tematica che può essere vista sia come opportunità oppure ora come limite, appunto, che serve educazione finanziaria e anche appunto la concezione, l'istruzione su cosa sia il risparmio, il valore del risparmio. Altri freni sono culturali, per dire, c'è stata giusta o meno comunque una frenata da parte degli esercenti a richiedere dei pagamenti per dei caffè, per delle colazioni. Quei pagamenti anche piccolini, insomma, abbiamo dei problemi ai posse, non abbiamo corrente, non abbiamo linea, non abbiamo il posse, c'è di tutti di più. E lo stesso però cliente che va a pagare adesso si sente quasi in debito morale di non andare a pagare un caffè con la carta di credito col bancomat, cioè di non andarla a pagare col sistema cashless. Ti senti proprio in debito morale verso l'esercente che è davanti, che conosci magari anche da qualche anno. Quindi c'è anche questo freno, diciamo, culturale. C'è un problema strutturale grosso per cui addirittura lo Stato italiano deve andare a pagare la propria popolazione per portarla al digitale. Per me è una cosa assurda che si debba ricorrere a un sistema così di intivazione per portare avanti la popolazione esatto nel digitale. Per me ci sono un po' di problemi strutturali in questo caso, cioè serve fare ovviamente formazione ai ragazzi, i ragazzi sono già molto allineati col digitale, però serve appunto fare una formazione sul concetto di risparmio e diciamo il valore, il denaro nel proprio portafoglio digitale. Serve al tempo stesso siccome accompagnare bene in questi 20-30 anni comunque che hanno generazioni un pochino più vecchiotte perché comunque adesso è necessario passare a sistemi digitali. Ma ne parliamo soprattutto in termini anche di evasione fiscale. La banconota è grande fonte di riciclaggio. Il riciclaggio col pagamento digitale adesso fai fatica a farlo. Perché è tracciato. Esatto, adesso è tracciato. Ci sono comunque ovviamente dei buchi, ma perché ci sono hacker, ci sono comunque certi privati che riescono a bypassare i controlli di cyber security. Anche digitali. Esatto, però sì, adesso diciamo pagamenti digitali per un buon 50% adesso sono quotidianità in Italia. Quindi si sono ben diffusi. Siamo ancora un po' indietro rispetto all'estero, siamo ancora un pochino indietro. Per me è una cosa clamorosa, cioè per chi gira con la banconota, se ti rubano il portafoglio tu non puoi dimostrare che quei soldi fossero tuoi. Con il digitale se ti rubano un portafoglio, se ti intercettano una transazione, insomma se ti prendono i soldi, comunque puoi dimostrare che fossero tuoi. Assolutamente, chiami la banca, quello non ero io, ti controllano e la fermi immediatamente. Per me questo è un altro valore adunto al digitale. Importantissimo, la sicurezza. Quindi che spesso invece il digitale magari a una persona poco informata dice ah ho paura perché metti i miei soldi online. Ma anche perché ormai adesso con i pagamenti digitali hai i doppi riconoscimenti. Cari miei ospiti, io non vorrei farvi perdere troppo tempo anche perché sono molto contento di quanto discusso finora e credo che abbiamo già sviscerato diversi temi. Però se volete possiamo fare un touch base sul punto della pianificazione finanziaria prima di avviarci verso la conclusione. Quando si parla di pianificazione ci siamo detti che si parte dagli obiettivi e si parte dai bisogni. E si cerca di capire come raggiungere quegli obiettivi e quei bisogni nel corso del tema. È metodo, metodo, metodo. E ci vuole costanza, ci vuole anche capacità di rimanere lì e di rispettare le regole. Oltre alla pianificazione mi permetto anche di consigliare un'altra apparentemente banalità la cosiddetta diversificazione. Si dice di non mettere mai le stesse uova all'interno dello stesso pagnere oramai lo conoscono tutti però non tutti lo mettono in pratica perché purtroppo se fai il pagnere con solo delle criptovalute sinceramente hai fatto una delle cavolate più grosse che tu potessi fare nella tua vita. Nella pianificazione e quant'altro ci vuole costanza e disciplina. Infine io farei una sorta di, si chiama PAC, piano di accumulo ovvero risparmiare e investire gradualmente ma soprattutto in questo caso investire gradualmente cioè non entrare sui mercati finanziari tutto in una volta ma farlo 100 euro al mese, 50 euro al mese, 200 euro al mese questo ti consente di smussare la volatilità tipica dei mercati finanziari quindi ti consente anche di andare a comprare quando i mercati finanziari come dicevamo prima crollano anche quando i mercati finanziari salgono ma soprattutto avere il coraggio perché lo inserisci automaticamente per 5 anni tu sai che il 27 del mese il tuo fondo investe 200 euro all'interno su quella cosa e quindi che vada su, che vada giù non te ne devi preoccupare i propri investimenti vanno controllati, monitorati, analizzati sì, ma non eccessivamente a livello temporale cioè non tutti i giorni o tutte le settimane dategli il tempo di crescere una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno, a seconda è più che sufficiente dopodiché sì, bisogna fare una piccola revisione il punto della situazione, mi conviene mantenere questo portafoglio dove lo devo aggiustare alla luce delle modifiche che ci sono state nel quadro macroeconomico, nel contesto di mercato è arrivata una pandemia, non è arrivata una pandemia, tutte queste cose qua di solito le fai con l'esperto che è il consulente finanziario o private bank non stare lì a guardarlo tutti i giorni perché se no il cuore ti parte poi per quanto riguarda l'orizzonte temporale la storia ci insegna che nel medio e lungo periodo le azioni tendono sempre a vincere rispetto cioè non vuol dire, oppure la storia sempre ci insegna che più sei giovane più ti puoi permettere tra virgolette di rischiare tuttavia bisogna vedere caso per caso io non posso fare un ragionamento omnicomprensivo di tutto a me spiace di dovervi dire che anche chi ha 22 anni di esperienza come me sui mercati finanziari non ha il guadagno facile Warren Buffett, il tuo amico torniamo dall'oracolo torniamo dall'oracolo diceva se tu fai 10 operazioni e ne becchi 6 va bene ok? quindi lui probabilmente ne beccava 6 e ha fatto un patrimonio enorme nessuno ha la sfera di cristallo gli altri gli altri, non gli altri quelli tra virgolette un po' più competenti vi dicevo prima analisi tecnica, analisi fondamentale macroeconomica analisi appunto comportamentale e adesso anche capacità di individuare le aziende veramente sostenibili sono un po' le cose ingredienti che messi tutti insieme ti consentono di fare un po' meglio degli altri sui mercati o comunque di non cadere in quei errori grossolani come si sono visti in passato in chi investiva che ne so in un titolo che rendeva l'8 io investivo in un titolo molto simile che rendeva il 3 ma chi prendeva l'8 non si chiedeva perché lo stupido di Mirko prendeva il 3 dopo tre anni io ho preso il 3 e chi aveva investito in un titolo che rendeva l'8 quel titolo è fallito e allora il perché è diventato chiaro e allora il perché è abbastanza lampante nessuno ti regala niente in finanza più rendimento uguale a più rischio fine e non esiste il rischio zero neanche nei bot se volete aggiungere un paio di considerazioni finali fate pure io volevo ricordare gli estremi temporali giustamente del progetto appunto progetto Be Education di Be Per Banca la piattaforma è ideechevalgono.it dove potete registrarvi se siete dei ragazzi o delle ragazze iscritte all'università triennale o magistrale proporre la vostra idea dopo aver beneficiato di un periodo di formazione in modalità e-learning e ricordatevi che queste iscrizioni sono da finalizzare entro il 15 marzo poi dopo l'e-learning arriva il vostro momento di metterci la testolina c'è Nina che la sento già macinare idee è carichissima avete una nuova competitor e a settembre verrà poi selezionato da Mirko, Riccardo e tutta Be Per Banca il citore del primo posto secondo e terzo posto che obiettivamente avranno qualcosa di davvero concreto per le mani e per andare a inseguire un po' quegli obiettivi e quegli sogni che dicevi prima bravissimo solo due piccole specifiche e la ragazza si possono iscrivere alla fase dell'e-learning anche adesso e fermarsi lì quindi non fare la fase 2 in questo caso tu impari delle cose però non partecipi all'ottenimento delle borse di studio in questo caso solo il learning lo puoi fare anche fino a settembre ma se vuoi fare il famoso project work concorrere alle borse di studio alle certificazioni nei CFU all'assunzione in biperbanca devi fare una seconda iscrizione oltre alla prima dell'iscrizione sulla piattaforma entro il 15 marzo l'evento finale probabilmente a Roma di premiazione sarà a dicembre e lì vi auguro con tutto il cuore di arrivare ai primi tre posti per quanto riguarda l'output perché ripeto le borse di studio sono sicuramente importanti non vedo perché non iscriversi è gratuito noi abbiamo già raggiunto il nostro target anzi abbiamo abbondantemente superato il nostro target che era di mille ragazzi sono molto sincero quindi Mirko qua si sta spendendo nonostante non ne abbia più bisogno di altri ragazzi quindi rendetevi conto di che opportunità è questa io scrivevo una professoressa ieri che non mi aveva risposto e gli dicevo guardi lo faccia per i suoi ragazzi gli dia almeno la possibilità di valutare certo voi farete quello che vorrete sulla base non so partite per un Erasmus voi farete quello che volete ma valutate almeno il progetto perché noi siamo sicuri di quanto è premiante e importante per la vostra crescita e per il vostro futuro sostanzialmente io da giovane studentessa sentendomi chiamata in causa invito tutti a partecipare a questo progetto perché oltre al fatto che sia gratis quindi non c'è nulla da perdere proprio è un'esperienza molto interessante perché ci si possono ricavare benefici sia a livello nozionistico sia come come esperienza di vita quindi iscrivetevi tutti perché è molto interessante Nina Prud anche perché come dicevi tu Mirko cultura e apprendimento sono quelle due cose che nessuno ci può mai togliere io direi a concludere con questa bella frase che mi è piaciuto un casino grazie Camilla ti ringraziamo e speriamo di vederci prima grazie a presto buona formazione grazie a tutti